Il prossimo 3 e 4 ottobre è in questa bellissima villa a San Giorgio Canavese e mostra le sue opere. Sì, questa è una personale che praticamente racchiude il mio lavoro ultimo, è una sala dedicata al nudo e diversi personaggi che vanno a delimitare quella che è la mia opera. Questo è un inizio per unire diverse attività artistiche, io sono anche il presidente di un'associazione che si chiama Arte, che assieme all'AMSI, l'associazione Medici e Scrittori Italiani, si è riunita per questa occasione di unione delle arti. Quindi tanti artisti, non solo la mia personale, ma scrittori che presenteranno i loro libri e musicisti che appunto ci allieteranno con la musica. Quindi letteratura, allievi nella scuola presenteranno le loro opere, pittura e musica che si riuniscono per cercare di ritornare un pochettino a quello che è la vita artistica e l'arte che fa sempre bene. Le sue opere sono legate da un messaggio di fondo che la comuna oppure ognuna ha per sé un suo significato? Ognuna ha per sé il suo significato, assolutamente. La pittura racchiude tante cose, quindi è la vita che si rinchiude in un attimo nel momento in cui uno si ferma a dipingere e fa un quadro. In quel quadro ci si mette sempre l'anima, quindi è un po' tutto. La vita poi è piena di gioie, di dolori e tutto quello che io riesco a sentire poi cerco di trasmetterlo con la pittura. In programma anche una performance dal vivo? Sì, farò un dipinto dal vivo. Il dipinto è dedicato a Dante Lighieri, è verso il 2021 e suonerò anche un po' il sassofono che non è mai lasciato in disparte. Amo sia la musica che la pittura, quindi cercherò di fare un po' quello che è la mia materia. Come nasce Con i nostri sensi? Con i nostri sensi è il titolo che abbiamo dato a questa unione di arti, come ha detto già Marco Giordano. I nostri sensi sono tutti, quindi sono la vista, l'udito, l'olfatto, sono messi tutti in moto quando parliamo di arte. Quindi arte a tutto tondo. Abbiamo voluto intitolare in questo modo proprio per dare l'idea del coinvolgimento totale che noi cerchiamo e speriamo. Di fatti non soltanto una mostra pittorica ma anche libri e altre forme d'arte. Io sono presidente dell'Associazione dei Medici Scrittori Italiani, AMSI, che è nata nel 1951 qui a Torino ad opera del professor Dogliotti e ha continuato a vivere sempre con andamento, diciamo, sinusoidale ma in tutta Italia e sempre. E siamo un gruppo di medici entusiasti della scrittura e del significato catartico che ha anche la scrittura per un medico. sia per come si può porre verso i pazienti e quindi dare un aiuto proprio anche attraverso la parola, sia per aiutare anche se stessi perché è molto importante un medico che sulle sue spalle regge o sente la sofferenza di molti, in qualche modo si libera. Quindi molti medici si occupano di varie forme d'arte, moltissimi della scrittura in particolare. Quindi abbiamo avuto dei chiari esempi in passato, a cominciare da Tobino, da Carlo Levi, intanto per dire dei personaggi storici che hanno fatto parte proprio della nostra associazione. Quindi io sono onoratissima di avere questo ruolo che vesto con grande passione. In questo evento anche la partecipazione delle scuole? Sì, delle scuole, non della scuola in quanto sono qui con due cappelli, come preside del 25 Aprile Faccio di Quornier Castellamonte e dell'Ubertini di Caluso e Chivasso. Da un lato, da parte di Castellamonte, l'indirizzo di ceramica coordinato dalla professoressa Baruzzi ha messo a disposizione delle sculture ceramiche che si accordano perfettamente con l'ambiente, con il giardino sono state studiate apposta sia dal lato del messaggio sia dal lato estetico. C'è stata proprio una ricerca perché disponiamo di centinaia di sculture, quindi c'è proprio stato l'intento di accordarsi al meglio e fa piacere proprio che ci sia in genere sempre e in specie proprio nell'uscita da questo periodo che è stato un po' di isolamento, aumentare proprio il grado di interazione, proprio quello che ci vuole per uscirne meglio tutti. Dal lato invece dell'Ubertini si mette in gioco l'alberghiero, così completiamo i sensi e aggiungiamo anche il gusto. A cura del professor Sergio Bertolotti, io cito solo qualcuno ma in realtà è tutta la scuola che partecipa. Ci sono i docenti referenti che hanno guidato gli studenti, ma se non fosse anche per tutti gli altri che hanno collaborato e lasciato appunto la disposizione per queste attività, nulla di questo si realizzerebbe. Quindi gli studenti dell'Ubertini, indirizzo alberghiero di Caluso, metteranno a disposizione un aperitivo nel giorno di domenica al mattino per appunto completare questa raccolta di sensi, quindi prima proprio dell'evento musicale e durante l'evento pittorico. Quindi vi aspetto per il 3 alle 5 del pomeriggio, 3 ottobre, qui in via Mainardi 5 a San Giorgio.